Ciao a tutti e come sempre ben ritrovati per un nuovo vostro caffè da passare insieme. Questa mattina torniamo a parlare delle lune di Saturno, ma volevo raccontarvi di una in particolare che non viene quasi mai menzionata. Questo perché di solito snobbiamo le piccole lune e ci concentriamo su quelle più belle, grandi e apparescenti. A buona ragione perché sono quelle poi più interessanti da studiare, però ci sono tante cose che possiamo imparare dalle piccole lune che ci insegnano cose che altrimenti le grandi non potranno mai dirci. Per esempio, c'è una piccola luna intorno a Saturno di cui non sappiamo quasi niente se non l'orbita e un po' la grandezza che potrebbe insegnarci molto riguardo alla migrazione del pianeta che non abbiamo studiato ancora per niente. Quindi qualsiasi cosa potete immaginarvi riguardo a questa piccola luna potrebbe essere vera. Quindi potreste immaginarvela, disegnarvela come vi pare. Quindi spazio a tutta la vostra immaginazione. La luna si chiama Fendrive e il suo nome viene dalla mitologia norrena, da un lupo leggendario che si chiamava Fenrir Sulphur, che era il lupo che venne incatenato in attesa del Ragnarok, la fine dei tempi. Quindi quando ci sarà il Ragnarok, il lupo leggendario che è figlio di Loki, verrà scatenato e porterà alla distruzione, eccetera. Ora, Fenrir è una luna che abbiamo scoperto soltanto di recente. L'abbiamo vista dalla Terra grazie a telescopi giganteschi ed è così scura, così scura, che anche Cassini, che è la sonda che per circa dal 2004, per 13 anni, ha orbitato intorno a Saturno, non riusciva a vedere. Era così piccola e scura che anche se era lì in orbita intorno a Saturno non è mai riuscita a fotografare. Questa luna è grande circa 4 chilometri, per cui immaginatevi qualcosa che se fosse sopra la vostra città coprirebbe buona parte di una città medio grande, quindi una città in cui tutto quanto viene oscurato improvvisamente, è abbastanza impressionante da vedere. Quindi 4 chilometri non sono così poche. Fate in tempo a costruirci sopra intere montagne. Se volete vedere qualcosa di dimensioni simile, guardate alla cometa 67P Churyumov-Garachimenko, che fu studiata dalla sonda Rosetta e in quel caso stiamo guardando un corpo di circa 4,5 chilometri e su cui potiamo trovare intere catene di montagne, dune, pozzi profondi e un sacco di cambiamenti da una parte all'altra della Luna. Ora, un'altra cosa interessante è che questa Luna orbita a 22,4 milioni di chilometri da Saturno in un'orbita retrograda di circa 1260 giorni per completare un'intera orbita intorno a Saturno. È molto lontana, quindi è orbita in senso contrario alle altre lune che si sono formate lì ed orbita in un'orbita molto inclinata. Il che significa che Saturno ha catturato questa roccia da qualche parte nel Sistema Solare dove di preciso non abbiamo idea. Non abbiamo idea se Saturno si stava spostando e ha catturato questo oggetto oppure se questo oggetto stava arrivando nell'interno del Sistema Solare magari da altre parti misteriose, magari dai confini del Sistema Solare stesso ed è rimasto catturato da Saturno. Chissà, un giorno magari costruiremo altre sonde per andare a visitare le ruone di Saturno e magari riusciremo a vederlo. Purtroppo ha un magnitudo apparente 25 per cui è incredibilmente opaco e piccolo, quindi per adesso rimane solo l'immaginazione. Volevo raccontarvi di questo piccolo mondo perché di solito questi sono i mondi che passano attraverso le dita e non vengono neanche mai menzionati, ma c'è tantissimo nel Sistema Solare che merita attenzione e quindi ricordatevi anche delle più piccole lune perché ci sono. Detto questo, fatemi sapere se avete disegnato qualcosa in tema Fenrir. Per adesso è tutto, un grande abbraccio da parte mia e continuate ad essere meravigliosi. Con un tema come Fenrir e la mitologia norena potete tranquillamente darvi la pazza gioia per inventarvi le caratteristiche di questa luna. Un consiglio è se disegnate la luna, di solito i nomi che vengono scelti vengono presi da un tema, quindi in questo caso potrebbe essere che tutte le caratteristiche su questa luna, montagne eccetera, portano nomi della mitologia norena o di altre creature leggendarie simili a lupi in tutte le mitologie. Quindi scegliete voi e fatemi sapere, mi trovate su tutti i social qui sotto, Tumblr, Instagram, Twitter, Facebook eccetera. Un grande abbraccio!